elemento nuovo perché per la prima volta dal giugno luglio del 2018 la Lega non è più la prima forza politica virtualmente secondo il sondaggio, secondo lo stesso sondaggio del Paese, ma è Fratelli d'Italia la principale forza di opposizione Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, come vedete guadagna la prima posizione con un più 0,2 e al 27% scavalca così la Lega che dal 20,6 passa al 20,3% al terzo posto il Partito Democratico che guadagna lo 0,2% al 18,8% poi il Movimento 5 Stelle al 16,6 più 0,6 rispetto a una settimana fa e Forza Italia che a sua volta guadagnano 0,2 al 7% le tre principali forze del centro-destra sommano al 48%, le vedete tutte e tre nelle prime cinque posizioni poi c'è azione di Carlo Calenda che sfiora il 4%, 3,9% più 0,1 sinistra italiana, l'altra forza di opposizione del nostro Parlamento di fratto gli anni 2,7% più 0,2 a scapito si può dire, nella prima forza che troviamo nella seconda schermata MDP, articolo 1, cioè Speranza, Bersani, D'Alema, 2,3% meno 0,1% e meno 0,2% Italia Viva di Matteo Renzi al 2,1% più Europa 1,8% meno 0,1%, Verdi 1,5% meno 0,3% poi c'è Coraggio Italia del governatore della Liguria Toti, del sindaco di Venezia Brugnaro 1% tondo, altre liste, 1,3%